FABILIA FABILIA Una vacanza libera e sicura Area Mamme Uno spazio dedicato alle mamme per le pappe dei nostri eroi L'area è accessibile tutti i giorni H24 A disposizione disinfettanti e materiali per sanificare le superfici Nel frigorifero saranno presenti brodi vegetali, passati di verdure e anche lessate parmigiano e formaggi in confezione monouso preparati ogni giorno dalle nostre cucine con prodotti di prima scelta FABILIA Il regno dei bambini, la vacanza dei genitori